E' morto a Napoli un altro ex operaio dell'ex isochimica. L'uomo di 65 anni si era costituito parte civile come tutti i suoi ex compagni di fabbrica dopo che gli era stata certificata la malattia professionale. Il suo nome figura nell'elenco delle parti offese costituite nel processo in corso da due anni. La causa della morte dell'ex scoibentatore al quale era stata riconosciuta la malattia professionale per asbestosi sarà chiarita dall'autopsia. L'esame stabilirà se a causare la morte sia stato o meno l'amianto. In questo caso il numero delle vittime dell'ex fabbrica dei veleni salirebbe a 25. La notizia della morte del 65 anni ha ovviamente sollevato rabbia e sconforto tra i colleghi dell'uomo che da tempo convivono con il terrore della morte. Gente che quotidianamente è costretta a chiedersi da domani cosa potrebbe accadermi. Famiglie segnate per sempre da una ferita che di fronte a queste notizie riprende a far male perché bisogna fare i conti con una tremenda realtà che accomuna tutti. La malattia. Ci sono voluti ben 30 anni per avviare il processo che è cominciato da due e che ad aprile del 2017 è stato trasferito presso il carcere di Poggio Reale a Napoli. Un altro duro colpo per gli ex operai che da tempo chiedono che il processo torni ad Avellino. Appelli inascoltati caduti nel vuoto mentre si assiste a continui rinvii di udienze e la gente continua a morire senza aver avuto ancora giustizia.